Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della ModCraft Nello scorso episodio abbiamo finalmente completato tutto quanto il set dell'infinito della Varitia Quindi abbiamo la spada, l'arco, il piccone, l'ascia, la zappa e anche la pala e ovviamente anche tutta quanta l'armatura E quindi abbiamo letteralmente finito quella mod Ci ho messo tantissimo tempo, infatti ho iniziato a novembre a farmare tutti quegli oggetti E all'inizio sinceramente mi sembrava veramente una sfida impossibile Pensavo, no non ce la farò mai, è veramente troppo lunga, non ne vale la pena Ma voi mi avete dimostrato il contrario, avete lasciato tanti mi piace, avete sempre creduto in me E quindi ce l'abbiamo fatta da novembre a giugno e siamo riusciti a completare tutto quanto il set Oggi ragazzi siamo al giorno numero 999 Come potete ben vedere in basso a sinistra, non so se riuscite a vederlo, c'è scritto proprio day999 Quindi è il giorno 999 Quest'oggi, subito dopo essere andati a dormire, riusciremo a superare il giorno 1000 Quindi 1000 giorni di modcraft e 1000 giorni di sopravvivenza in questo mondo stramboide Pazzo, incredibile, pieno di troll, draghi, maghi e soprattutto creature ultra ultra maligne Siamo riusciti a sconfiggere più e più mod Abbiamo ottenuto tutte le statuine della Advent of Ascension, una mod lunghissima Con più di 40 boss incredibile, 40 nuove dimensioni Abbiamo finito tutta la mod del Necronomicon, uccidendo anche i boss e gli scagnosi di Cthulhu Abbiamo fatto delle costruzioni incredibili Siamo sopravvissuti a un cavolo di terremoto che ha distrutto l'intero mondo della modcraft Insomma, ne sono successe di cose veramente interessanti E quest'oggi, ragazzi, uccideremo un altro boss della palude putrida Quindi entriamo immediatamente all'interno delle Betweenlands Con il nostro super portale Ok E dobbiamo craftare un rituale Dobbiamo craftare il cuore della mummia E ora vi faccio vedere come craftarlo e soprattutto come funziona Che cos'è sta... Cosa... Cosa sei? È un mostro? Dove? Oh! L'ho ucciso Sì, l'ho ucciso, era un mostro Incredibile Questo mondo, ragazzi, mi stupisce sempre di più Ma vi devo dire la verità Non vedo l'ora di uccidere gli ultimi boss Perché poi farò un aggiornamento alla modcraft con tutte le nuove mod della 1.16 E sarà incredibile Ovviamente, ragazzi, come sicuramente avete già capito Inizierò da capo Perché moltissime mod di questo pacchetto non esistono per la 1.16 Infatti ho la bellezza di 74 mod installate Rendetevi conto, sono veramente tante E sono fortunato a poter giocare a questo pacchetto E soprattutto al fatto che riesca a girarmi senza troppo lag Ogni tanto laggo un pochettino Però diciamo che faccio più di 100 fps fissi Allora, ragazzi, dobbiamo trovare un bioma specifico Per far nascere questo nuovo boss Restano gli ultimi due boss E dopodiché mi avete detto anche che si può craftare la spada galatea Però alcuni mi dicono che si può craftare E altri mi dicono che non si può craftare Mi avete spiegato che tecnicamente devo prendere dei frammenti Degli oggetti che trovo all'interno di questa dimensione E li devo inserire nell'altare del tempo E poi, in questo modo, si creerà la spada galatea Il problema è che non ho capito quali sono questi oggetti Quindi potete essere più specifici, per favore, nei commenti Perché io al momento Allora, vediamo dov'è che li tengo gli oggetti Mi sa che ce li ho nell'ender chest Quindi non ve li posso fare vedere Comunque, nell'ender chest c'ho alcuni oggetti Che a quanto pare devo inserire all'interno del portale del tempo E poi si dovrebbe riuscire a creare questa nuova spada di questa dimensione Ma alcuni mi dicono che non esiste la spada galatea Che è una spada di un'altra mod Che io non ho nel pacchetto E quindi non la potrò ottenere mai Chissà qual è la verità, ragazzi Lo scopriremo insieme Soltanto giocando Allora, come vi dicevo Devo trovare il bioma giusto Che forse anche questo potrebbe andare bene Però assicuriamoci di trovare quello giusto prima Anzi, facciamo così Prima di tutto vi faccio vedere come craftare L'esca per la mummia Quindi ci serve Questo cuore animato Poi l'armis Le sludge ball E infine una shimmerstone E come vedete riusciamo a ottenere Il mummy bait Quindi l'esca per la mummia Tecnicamente Lanciando questo oggetto per terra Dovrei riuscire ad evocare Uno dei boss di questa dimensione Ovvero il penultimo boss rimasto Il problema, ragazzi È che avendo così tante mod installate A volte lagga E quindi il mondo non si carica facilmente Per me vi assicuro Che è un'impresa Riuscire a registrare questi episodi In questa dimensione Perché ci metto delle ore Soltanto a caricare il mondo Per cercare le cose che mi servono Quindi, per favore Lasciate un mi piace a questo video Su, non vi costa nulla Siamo arrivati al giorno 1000 No, siamo ancora a 999 Non vedo l'ora, ragazzi Però devo dire che negli ultimi 400 giorni Sono stato aiutato molto Dall'armatura e dalla spada Questo è il famoso Biomas Lajon Entrambi i boss si trovano qua Però Uno lo posso evocare io Utilizzando questo cuore E l'altro boss, invece Lo posso trovare soltanto Dentro una specie di castello Che però A quanto pare Qui non c'è Però Quest'oggi sicuramente Riusciremo Oh, mamma mia Guardate com'è paludosa, ragazzi Non mi riesco neanche a muovere Quest'oggi Riusciremo sicuramente Intanto a uccidere La mummia Quindi tiriamolo Oh, dov'è? È questo? Che schifo Ma cosa sei? Va via Porca miseria Oh, mio Dio, ragazzi E quelli che cosa sono? I suoi scagnozzi? Ok, si chiama Dreadful Pete Mummy Oh, mamma mia Facciamo così Voglio togliermi l'armatura Soltanto per vedere quanto danno mi fa Cioè, sono veramente curioso Aspetta, rimettiamoci questo Così possiamo volare Quanto danno farà, secondo voi? Mamma mia Oh, aia Sto coso, ve lo giuro Non mi fa muovere Oh Ma che cavolo urli Rimettiamoci l'armatura Eh, non mi fate nulla, eh Stupidi Non mi fate assolutamente niente Vediamo Utilizziamo la spada Shockwave Bam Cioè, se li dovessi provare a uccidere Ci metterei tantissimo E in più Senza questa armatura Che mi permette di volare Ma che cavolo sta succedendo Attorno al mio personaggio Dicevo Senza questa armatura Che mi permette di volare Ragazzi Non riuscirei a fare nulla Ok, ragazzi Devo assolutamente uccidere Questa mummia Perché fa veramente Laggare tantissimo Quindi Pioggia di frecce Dell'infinito Sì Tu ti credi più potente Dell'imperatore Kendall Ma cosa pensi di fare L'ultima frecce Dovresti Morire Ecco Questo è quello che meriti Mamma mia Ok Mi ha dato Anche lei Un amuleto Mi ha dato un'altra Shimmerson Anzi Tante Shimmerson Poi mi ha dato Un Ring of Summoning Oh Va via Tecnicamente Questo anello Dovrebbe permettermi Di evocare No Ah l'ho usato Dov'è Come faccio a riprenderlo Tecnicamente Al costo dell'esperienza Dovrei riuscire A Ehm Ehm Evocare Degli scagnozzi come lui Delle mummie Dal terreno Però non sta funzionando È molto strano In effetti E poi mi ha dato Anche un altro Amuleto slot Ok Io non ho capito ancora Se sono questi gli oggetti Che devo inserire Nel portale del tempo Per Creare la spada Di cui parlate voi Non lo so Me lo dovete dire voi Nei commenti Perché in quel caso Mi aiuteresse tantissimo Nel frattempo Vediamo se riusciamo A trovare Anche un altro Sludgeon Questa volta però Con il castello Perché ci resta L'ultimo boss E da sconfiggere E dopodichè Avremo completato Anche questa mod Oh Eccone un altro Dai ti prego Dimmi che c'è il castello Dimmi che c'è il castello Per ora non lo vedo È enorme Cioè si dovrebbe riuscire A riconoscere Da quel che ho visto su google Il problema è che Questo bioma È veramente raro Non ce ne sono molti Ed è piccolo Ho visto È molto piccolo Si dovrebbe trovare Un castello qua al centro E in quel castello Ci possiamo trovare L'ultimo boss Rimanente Delle between lands Comunque ragazzi Vi posso assicurare Che la modcraft 2.0 Sarà Incredibile Quindi Dovete restare Assolutamente Sintonizzati Perché quando la inizierò Il vostro unico compito Sarà quello di lasciare Tantissimi mi piace Ok Abbiamo trovato Un altro sludgeon No Quelli sono gli alberi Oh mio dio Giorno Mille ragazzi Ho passato Un'intera notte Qua dentro E non me ne sono Neanche accorto Giorno mille Sono riuscito Ufficialmente A sopravvivere Per mille giorni All'interno Della modcraft Non è una cosa Che in tanti Possono dire Mille giorni Di minecraft E nella vita reale Quasi 365 giorni Perché ho iniziato Questa serie Ad agosto Del 2020 Ma come fai a respirare Sott'acqua Scusate Raghetto Oh ma i fondali Marini Di questo posto Sono stupendi Con tutte queste Lucine Niente ragazzi In questo episodio Non riesco proprio A trovare Lo sludgeon E il castello Sto avendo Tantissima sfortuna Siamo ufficialmente Riusciti a resistere Più di mille giorni All'interno Della modcraft Morendo Soltanto Penso Una decina di volte Forse Poi appena uccido L'ultimo boss Di questa dimensione Mi piacerebbe Ritornare vampiro Che le dite Beh io spero Che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un super Mi piace Se così è stato Perché ragazzi Dai E la modcraft Ecco uno sludgeon Magari è la volta buona Dai 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 Castello 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 Tranquilli Nel prossimo episodio Lo troveremo Dal vostro candle è tutto E ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao